Roma è forse l'unica capitale al mondo ad avere dei grandi capolavori praticamente per ogni capitolo della storia dall'antichità al medioevo al rinascimento all'età barocca al secolo dei lumi fino ad arrivare a oggi e a volte per scoprirli nel caos del traffico basta semplicemente superare il cancello e ci si trova come in questo caso tra san pietro e trastevere in una vera oasi dal silenzio quasi surreale ed è proprio qui in questo parco che comincia il nostro viaggio a ritroso nei secoli un viaggio che ci porterà alla scoperta di un vero gioiello del nostro patrimonio villa farnesina un vero capolavoro dell'arte rinascimentale è stata costruita a partire dal 1506 per volontà di un ricco banchiere senese che era ben inserito nella corte papale agostino chiti villa è larga circa 37 metri e alta 19 si sviluppa su sei livelli compreso il piano interrato con le cucine e le dispense e al suo interno trovate alcuni dei più belli ambienti che possiate ammirare qui a roma come questa quest'ambiente la loggia di amore psiche la loggia significa che era un ambiente una grande sala con delle arcate aperte verso il parco e il soffitto la volta era decorata con degli affreschi straordinari che lasciano la bocca aperta a tutti gli invitati tutte le persone che venivano qui compreso il papa e siccome chigi poteva permetterselo per realizzare gli affreschi chiamò uno dei massimi esponenti del rinascimento attivo a roma proprio in quegli anni cioè raffaello in realtà a lui si devono solo i cartoni disegni preparatori mentre l'esecuzione degli affreschi è opera di alcuni dei suoi migliori allievi come giulio romano e giovanni da udine gli affreschi raccontano la storia di amore tra il figlio di venere amore appunto e una comune mortale della quale si era inveghito psiche un amore contrastato proprio da venere ma destinato poi a un lieto fine con le nozze celebrate proprio nell'olimpo perché proprietario agostino chigi volle proprio questa leggenda così complicata di una mortale che diventa una dea perché si era innamorato di una ragazza di umili origini una veneziana francesca ordeaschi diciamo quasi una mortale diremo noi confronto a lui al suo potere alla sua ricchezza e il mito doveva simboleggiare proprio la loro storia d'amore guardate in questa sala dove venivano persino a pranzare o a cenare con lui i papi dell'epoca bene sul soffitto è raffigurato il suo oroscopo l'oroscopo di agostino chigi costellazioni divinità e segni zodiacali affollano elegantemente questa loggia quasi però con l'intento di legittimare con le stelle il successo di questo ricco banchiere sono opera di baldassarre peruzzi l'architetto della villa se avvassiamo lo sguardo scopriamo un mito una leggenda dipinto da due mani diverse a sinistra vediamo polifemo rappresentato da sebastiano del piongo e a destra galatea rappresentata da raffaello il mito è famoso secondo la leggenda infatti il ciclope cioè polifemo si innamorò perdutamente di galatea che era una delle 50 ninfe marine ma lei lo rifiutò e lui scagliò un masso che uccise il giovane che amava la ninfa ma la ninfa scappò e scappò a bordo di questo cocchio lo vedete che è una conchiglia trainata da due delfini uno dei quali sta divorando un polpo simbolo del male e tutto attorno raffaello è rappresentato con incredibile maestria dei tritoni e delle nereidi che sembrano quasi danzare attorno a lei e sopra famosissimi i putti praticamente degli amorini che volteggiano attorno a lei sono non solo i simboli della villa perché qui trionfa l'amore in questa villa ma soprattutto sono entrati nella storia dell'anno è difficile descrivere l'emozione che si prova stando così vicini a un fresco di raffaello e poi così integro così vivo ma anche all'epoca c'era questa consapevolezza nel senso si sapeva che erano delle opere uniche e in effetti si cercava di non realizzarle nella parte bassa di edifici come questi perché perché il tevere quando faceva le inondazioni rovinava la parte più bassa di queste pareti e di conseguenza qui si pensa si utilizzassero dei dei tessuti degli arazzi questo che vedete è un tessuto addirittura affrescato dipinto nel seicento in un'epoca successiva quella di raffaello ma i tecnici restauratori non si sono fidati hanno detto chissà cosa c'è oltre questo è uno strato del 600 ma sotto c'è la parete del 500 quella di raffaello e così hanno provato a strappare questo dipinto ed ecco quello che è riemerso il muro lintonaco che ha visto raffaello lavorare e lo possiamo dire perché questi fatti che vedete questi tratti che vedete questi disegni sono opera di raffaello sono dei disegni preparatori sono degli schizzi che aveva fatto mentre realizzava l'affresco infatti si ritrovano quel volto di nereide lo ritroviamo qui l'affresco agli occhi aperti qui sembra avere gli occhi chiusi e qui si vedono altri dettagli per esempio questo corpo che è chiaramente quello della stessa nereide la stessa posizione stava studiando la posizione del corpo ecco il volto di un'altra donna sognatrice è proprio sopra guardate c'è un profilo di un uomo con la barba molti l'hanno interpretato come il profilo di michelangelo e qui c'è una storia da raccontata che è stata tramandata nell'arco delle generazioni e cioè che mentre raffaello realizzava questi affreschi aveva vietato a tutti di venire qui nel cantiere soprattutto a michelangelo già perché michelangelo nello stesso momento stava realizzando la volta della cappella sistine tra i due comunque c'era un po di rivalità non voleva che michelangelo vedesse queste sue opere perlomeno quando le stava realizzando ma michelangelo era una persona molto molto curiosa e approfittò di un momento di assenza di raffaello per venire a curiosare qui nel cantiere ammirò certamente la bravura del suo collega rivale e lasciò una sua firma eccola la sua la vedete è questo volto trattato fatto con un con del carboncino è molto intenso molto bello quando tornò raffaello lo vide capì che era stato poi una firma come un biglietto di apprezzamento di michelangelo e di rimando fece il suo profilo il profilo di michelangelo qui o meglio questo è quello che si racconta ma in realtà è leggenda è una storia raccontata inventata di sana pianta in effetti quando i restauratori sono andati a pulire nella lunetta quel volto che sarebbe stato realizzato da michelangelo trovarono una firma quella di baldassarre peruzzi cioè l'artista che aveva realizzato la volta di questa sala quindi probabilmente michelangelo non venne mai qui e probabilmente questo è semplicemente una prova un disegno per rappresentare uno dei voti di questi affreschi ecco ora noi stiamo salendo al primo piano della villa vedete la vita quotidiana di questo banchiere banchiere senesa era davvero avvolta nello sfarzo e si racconta per esempio che nei banchetti alla fine lui lanciasse i piatti d'oro nel tevere per far capire a tutti quanto fosse ricco ma si racconta anche che una volta che gli invitati erano andati via raccogliesse questi piatti perché aveva fatto mettere prima delle reti nel fiume è chiaramente una storia inventata però di certo è che la sua vita era all'insegna dello sfarzo e potete immaginare cosa sia successo il giorno del suo matrimonio con francesca ordeaschi e proprio qui al primo piano c'è la sala dove si è tenuto il banchetto di matrimonio ecco il banchetto è stato tenuto proprio in questa sala 150 metri quadrati una sala immensa e dovete immaginare la ricchezza degli abiti degli ospiti gli orli smeraldi gioielli certamente era un evento memorabile e certamente gli occhi di tutti gli invitati si saranno posati su questo bellissimo pavimento è una scacchiera di marmi pregiati scacchiera che continua anche sulle pareti sugli affreschi non è un caso che questa sale si chiama sala delle prospettive è stata affrescata da baldassarre peruzzi apposta per questo matrimonio quando vi muovete in questa stanza avete l'impressione che il pavimento rappresentato sulla fresco vi segua si stia girando assieme a voi questo è un altro dei trucchi usati da baldassarre peruzzi il quale ha rappresentato un mondo esterno sembra quasi una grande finestra sfondando le pareti con i pennelli in un certo senso è rappresentato una grande balconata che si affaccia su roma e questo ci dà un'occasione unica quella di vedere roma nel cinquecento si vedono tanti dettagli per esempio delle pergule tipiche dell'antica roma se volete quasi dei balconi ricoperti era un modo per guadagnare dello spazio in casa e affacciarsi all'esterno e poi guardate ecco rappresentata un'inondazione il tevere esondava molto spesso e qui è rappresentato un'inondazione che avvolge il complesso di santo spirito quindi a due passi da san pietro la curiosità è vedere anche quello che c'è oltre le campagne erano attaccate a roma roma era una città piccola bastava alzare lo sguardo e già vedevate dei campi arati e dei boschi già allora si vedevano dei piccoli dettagli della vita quotidiana come per esempio dei panni stesi su una parete oltre queste colonne immaginarie si vede il tevere e le sue sponde non c'erano i muraglioni attuali non erano consolidate semplicemente si arrivava al tevere scendendo lungo delle rive fangose o erbose e c'erano tante scalinate che portavano evidentemente a degli approdi si vedono delle persone si vede forse anche quello che deve essere un mulino roma viveva sul tevere e sfruttava per esempio la sua corrente per creare la farina dal grano guardate questa sembra quasi una foto ed è per così dire l'entrata a trastevere proseguendo via della lungara proprio qui accanto a villa farnesina e quest'arco ha una piccola curiosità così il gossip vuole che raffaello passando proprio sotto quest'arco abbia visto una ragazza bellissima che stendeva i panni la famosa fornarina se ne invaghì anzi diventò proprio il suo modello ispiratore per tantissime rappresentazioni delle sue opere e si racconta anche che agostino chigi amico di raffaello per permettergli di vivere questo amore facesse venire qui proprio la fornarina per i loro incontri amorosi ma questo affresco ci racconta anche qualcos'altro vedete questa villa ha una storia lunghissima 500 anni e quindi ha attraversato vari capitoli della storia compreso il terribile sacco di roma dell'anzichenecchi un anno dopo il banchetto nuziale agostino chigi muore e pochissimi anni dopo arrivano appunto i lanzichenecchi e razziano la villa uccidono sicuramente delle persone si stabilizzano proprio qui si stabiliscono in questa villa e qualcuno ha cominciato anche a scrivere scrivere delle invettive contro il papa ci sono anche delle caricature qui in particolare si legge perché noi lanzichenecchi non dovremmo ridere abbiamo fatto correre il papa probabilmente questa scritta si riferisce al famoso episodio della fuga del papa da san pietro dalla città del vaticano verso castel sant'angelo lo ha fatto correndo lungo il passetto un lungo passaggio sopraelevato con delle merlature che univa appunto san pietro a castel sant'angelo e da sotto cercavano di colpirlo proprio i lanzichenecchi allora il papa usò uno stratagemma fece correre prima un graduato delle sue guardie svizzere che fece da bersaglio mobile e non venne colpito mentre lui corse subito dopo in pratica non c'era il tempo per ricaricare i fucili e colpirlo e probabilmente questa scritta fa proprio riferimento a questo episodio su un'altra parete altri segni lasciati dai lanzichenecchi la caricatura del papa clemente settimo e poi una scritta all'altezza di questo campanile babilon babilonio la torre di babele questo era roma per i lanzichenecchi lasciamo per un attimo i lanzichenecchi torniamo un pochettino indietro nel tempo al giorno di quel matrimonio bellissimo che agostino chigi ebbe proprio nella grande sala il matrimonio venne poi consumato la prima notte avvenne proprio in una sala attigua proprio attaccata eccola e vedete è stata rappresentata un'altra scena di matrimonio simbolica quella tra alessandro magno e roxane anche qui due livelli diversi un grande un condottiero un re e lei di rango inferiore perché era la figlia di un re persiano che alessandro magno aveva sconfitto e lo si vede mentre le porge la corona facendola suo pari fondamentalmente molto curiosi sono i putti che fanno a gara nel spogliare questa regina che aspetta sul letto tutto questo è opera di un altro grande maestro del rinascimento il sodoma che era un grande amico di agostino chigi la proprietà di agostino chigi si estende anche più a sud ai piedi del genicolo con il cosiddetto giardino segreto pazientemente recuperato è un altro angolo di rinascimento dove tra l'altro si risolve un piccolo enigma un piccolo giallo se la villa è appartenuta a agostino chigi perché si chiama villa farnesina il motivo è semplice agostino chigi morì come abbiamo detto appena un anno dopo il suo matrimonio e la villa andò in rovina per un bel po di tempo fino a quando venne acquistata dai suoi vicini dai farnese che la inglobarano nelle loro proprietà come indica ancora oggi il cancello con il simbolo dei farnese cioè il famoso giglio e da allora la villa viene chiamata villa farnesina la storia di villa farnesina non finisce qui ci sono tantissimi altri capitoli noi vi possiamo raccontare l'ultimo l'ultimo suo volto e cioè che dal 1944 villa farnesina è diventata di proprietà dell'accademia dei lincei che le ha accanto che ha saputo custodire e valorizzare il suo carico di storia e di arte e di recente ha anche aperto la villa alle visite permettendo a chiunque non solo di ammirare i suoi capolavori ma anche di percorrere la storia che vi abbiamo appena raccontato grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continua a vivere ancora oggi ed è fondamentale, escluso un piccolo periodo in cui fu fusa durante il fascismo con l'Accademia d'Italia. Ebbe varie sedi in Roma e fu collocata invece in un posto stabile dopo l'Unità d'Italia, in un'area della città che è particolarmente importante. Roma è innegabilmente eterna, sembra immutabile, la vecchia porta è quella di prima, purtroppo però cambia anche perché l'antica collezione dei Torlonia oggi è diventata mini appartamenti. Invece rimane stabile l'edificio di Palazzo Corsini. Mi ritrovo in Via della Lungara, un'altra delle eredità di Giulio II, questa voluta da Brabante. Le due strade parallele, questa e Via Giulia, formavano il nuovo assetto urbanistico intorno ad un tevere al quale si accedeva ancora direttamente sulle rive e qui intorno si sviluppò un'area urbanistica particolarmente interessante, quella che congiunge Palazzo Farnese e la Farnesina. Via della Lungara è un caso urbanistico molto particolare. In quella zona di là dal Tevere, Raffaele Riario, nipote di Sisto IV, acquista dei terreni. Sisto IV ha appena completato il più bel ponte di Roma dopo quelli antichi e prima di quelli moderni. Ponte Sisto, probabilmente il bacio Pontelli. Siamo attorno al 1480. Raffaele Riario costruisce nella città uno dei palazzi più importanti nuovi, quello oggi detto della cancelleria. E di là dal ponte è una sorta di villa di campagna, cioè il Palazzo Corsini. Accanto a lui si impianta un parvenu arrivato da Siena, Agostino Chigi. 20 anni dopo, l'altro nipote di Sisto IV diventa Papa con il nome di Giulio II. E proprio in quella zona impianta l'altra delle sue strade, nella città antica via Giulia, a Trastevere via della Lungara. Giulio II, francescano come suo zio. Suo zio l'inventore della Cappella Sistina, lui il Papa in armatura, con idea dello Stato e quindi dell'urbanistica. E dove l'eredità bramantesca avrà una conseguenza anche in epoca barocca, perché da un lato Borromini metterà in piedi il progetto di Palazzo Falconieri, di fronte Fuga metterà in piedi il progetto incredibilmente ambizioso di Palazzo Corsini. Vilariario si trasforma, diventa Palazzo Barocco nel Seicento con Cristina di Svezia, quando lo compera, e si trasforma ulteriormente nel Settecento, quando diventa Papa Lorenzo Corsini all'età di 78 anni, forse per morire subito, ma campa a dieci anni benissimo, e la sua famiglia si impianta in città. Il cardinal ipote Meri Corsini affida il progetto ad un fiorentino, Ferdinando Fuga, il quale farà successivamente una carriera folgorante. Miracoli architettonici d'Italia, dove si somma tutto, anche la conclusione finale dell'Italia postulitaria, quando vengono aggiunti i grandi finestroni di ferro, perché il Palazzo diventa dello Stato e ospiterà l'Accademia dei Lincei definitivamente. Doppio scalone, decoro di statue settecentesche che dialogano con reperti romani antichi. Tra l'altro quattro stagioni, di cui due le individuo immediatamente, l'estate e l'autunno, ma non riesco a capire come mai le signore d'allora d'inverno potessero girare a seno nudo. La dovuta quantità di barbe, quelle postunitarie posate sui libri e quelle antiche con una revisione di Ercole e Leontè, ugualmente elegantemente impolverati. Questa è la parte antica dell'edificio, Palazzo Riario trasformato per accogliere Cristina di Svezia nella seconda metà del Seicento. A Ferdilando Fuga piaceva molto la simetria, roba da settecento, ma forse di più ancora, Omen Nomen, gli piaceva proprio la fuga. Siccome da Fiorentino lavorava per i corsini a Roma, ma fra poco avrebbe lavorato anche a Napoli, da Napoli tornano alcune immagini delle grandi statue scoperte allora, come questa riproduzione marmorea del famosissimo Seneca di bronzo delle collezioni borponiche. E porta però il corridoio centrale in un androne che è esaltazione pura. Androne glorioso che si chiude con una balconata supermossa. E in questo svincolo attualmente si articolano tre funzioni. La biblioteca di origine settecentesca, oggi dei lincei, di fronte la Galleria Nazionale di Palazzo Corsini e sopra i lincei veri e propri, con i loro studi e le loro aule. Qui all'ultimo piano vengono accolto dal presidente attuale dei lincei, Lamberto Maffei. Tutti gli iscritti sono, diciamo, considerando i soci stranieri, si va vicino a 600 iscritti, siamo un pochino meno di 600. La reazione è solo per cooptazione. Cooptazione viene fatta, prima le indicazioni, viene fatta dai soci della stessa categoria che si occupano, supponiamo, economia. Poi però viene passata agli altri soci, devono votare tutti, prima nella classe, poi perché molti non vengono, oppure si vota a casa per scritto. Questa è la votazione finale per cui si entra o non si entra nell'accademia. Quello che proprio stiamo facendo in questi anni è proprio cercare di creare un'elite del pensiero che abbia ricaduta anche sulla società, insomma, perché penso che è dall'elite che nasce. Grazie.